ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono jo red e prima di vedere il video se vi va mettete like e iscrivetevi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo era tanto attesa questa diretta del grande fratello vip perché finalmente abbiamo scoperto il secondo finalista di questa edizione ovvero michelin corvaia questo risultato però risulta essere per molti non corrisposto al parere pubblico a casa e il web grida a gran voce televoto truccato o perlomeno sabotato in molti infatti stanno notando discrepanze tra le statistiche sul sito e il risultato finale sollevando dubbi sulla trasparenza del televoto se fino a poche ore dalla diretta i sondaggi davano vittoria per nikita il risultato del televoto ha dato dei dati totalmente differenti dalle aspettative e molti dubitano ad un televoto truccato o forse meglio dire sabotato i colpevoli potrebbero essere le fadom di fan che forse pur di non veder nikita e antonella diciamo le favorite hanno votato un concorrente forse a caso in questo caso michael per fare un torto a loro detto questo nikol però è una delle protagonisti di quest'edizione e credo che la finale se la meritasse comunque e voi cosa ne pensate scrivetene commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video un grosso abbraccio da john red